Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2 Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo aver vissuto un episodio direi alquanto tragico la volta scorsa Poiché abbiamo dovuto assistere ad una cosa estremamente spiacevole L'idea di Sean poi è stata quella di andare a cercare la casa dei propri nonni Per vedere se questi ultimi avrebbero potuto poi dimostrarsi disposti ad aiutarli Siamo riusciti ad arrivare alla casa dei nonni ed è proprio da lì che ripartiremo Tra l'altro Daniel sembrerebbe essere anche malato ha una brutta tosse E questo è il motivo penso che ha spinto di più Sean a cercare aiuto dai nonni Perché ovviamente non può andare a comprare le medicine a parte che con che soldi Vediamo ragazzi vediamo cosa succederà adesso Mi avete confermato che la nonna dei ragazzi è la vicina che si vedeva in The Awesome Adventure Captain Spirit Vedremo che succederà Sono molto curiosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci ho provato a non prendermi cura di lui non credere Vabbè vediamo un pochettino il quadro Ah si Nonni Niente di che Finestra Madonna raga non deve essere per niente facile ritrovarsi in una situazione del genere Ah stanno parlando di quello che è successo a casa nostra ragazzi ho capito quello che stava dicendo il nonno Oddio Era ovvio che comunque avessero sentito di questa notizia o no Secondo me era ovvio perché ovviamente sarà stata diffusa tipo a livello nazionale visto che un poliziotto è morto bla 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 E quindi adesso staranno discutendo sul da farsi Probabile che la nonna sia più disposta rispetto al nonno Però non è detto eh Vediamo che cosa hanno da dirci Ecco Come avrei potuto? Dici sul serio? No, no, no E certo, è ovvio Voglio la spiegare Volevo proteggere Daniel I didn't want Daniel to see dad Like that I felt like I had to protect him I understand But You know the police would separate us Maybe forever Daniel would end up in foster care You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. Supi's? Supi's? c'è un ragazzo che può fare non so che facciamo glielo diciamo che vogliamo andare in Messico ci sto pensando come potete guardare il tuo figlio se stavate fuori dalla polizia voi stai con noi oh Steven magari noi dovremmo dopo la tua madre la tua padre non voleva noi in la tua vita non lo so ma tu è ancora parte della nostra famiglia e vogliamo provare oh che tonneri grazie seriously that's really nice Steven thank you ok but we have to lay down the rules of the house no mess no noise or no service the biggest rule is keep your heads low around here Beaver Creek is small and nosy and nosy we can stay serious awesome oh Sean guess what there's a huge model train upstairs hey you're supposed to be resting young man yeah yes he is but he seems better already anyway you and Daniel will stay here at least until Daniel's better we'll see what happens next so I bet you're hungry let me fix you something how do you feel super wolf way better it's nice and warm in here and the food yum yeah feels good feeling better you look cozy yeah I love that bed thanks grandma good your temperature is down I'm way better now you still need to take it easy how about if we say a little prayer and give thanks it's like a bedtime story right well this is a bit like this yes except the story comes from up there the ceiling so are we ready to pray just follow my lead okay sure we need all the help we can get can you ask the blessed dad and Sean um and Mushroom and you and Grandpa and uh everybody else oh my you are so sweet thank you Lord for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house take care of Esteban and uh Mushroom please give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come amen 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 okay it's bedtime try to get some rest you still need it and no roughhousing in here no worries we're too tired goodnight oh and thanks again goodnight grandma it feels so nice to have a bed again and the bathroom I hear that plus you don't smell anymore whatever well Claire seems pretty caring and nice I guess Stephen is too I hope we'll be fine here I think so and the more important thing is you'll have time to get better Sean are we in Mom's old room? nah I don't think this is the one not from what I remember but it's been a while could we check it out tomorrow? maybe find some of her stuff? why would you want to do that? I just don't know anything about her Daniel I understand but we need to focus on where we are now and where we're off to mom left us she made her choice we gotta make ours and we can't keep going back you know what I mean? yeah I guess hey man you've been doing so great with your well you know I was wondering how do you do it? I don't know I don't know I concentrate in it just happens fa male wait does it hurt? nah it's kinda itchy though and it's exhausting sorry I don't know remember the rules right? we really don't want Claire and Stephen to start asking questions I know I know don't show don't talk just keep that in mind and everything should be fine sleep tight little cub eh beh è ovvio dovrà tenere a bada diciamo così il suo potere perché cioè i nonni comunque già hanno fatto un grandissimo passo nell'accoglierli nonostante la loro situazione figuriamoci se dovessero pure scoprire che Daniel c'è superpoteri non me darebbero di matto un po' come chiunque e adesso dov'è? ah una settimana dopo ok quindi c'è stato un salto temporale chissà per quanto tempo decideranno di rimanere lì cioè immagino che arriverà un momento in cui se ne dovranno andare da lì perché vi ripeto comunque se sono sempre ricercati dalla polizia non possono avere una vita normale tra virgolette cioè non possono andare a scuola capite? vabbè direi di guardarci un po' intorno allora bandana guarda finestra vedete non possono fare cose normali il libro libro di Stephen poi c'è la foto di nostro padre dopodiché cos'altro c'è qua vestiti direi di vestirci perché di certo non possiamo andare giù in mutande sarebbe davvero troppo poco decoroso che sta succedendo in là che sento voci sento parlare il nonno se la ride alla grande beh è positivo sentire che la gente si stia divertendo parorecchi figurati un adolescente nel pieno degli ormoni figurati se si mette un parorecchio la satellite è giocata ma come dai no ok si sta allenando a perfezionare l'uso del suo potere praticamente questo è lo zaino di Daniel ragazzi ok niente di speciale però qua c'è il nostro di zaino è incredibile davvero ok il pigiama di Daniel va bene non ci resta allora che andare fuori che? madonna che figata si si arriva ok voglio prima vedere questa cosa meravigliosa steven che figata dai con il laghetto e tutto il resto vediamo un altro po' cosa abbiamo qua intorno vaso di fiori ah l'hai rotto tu? perfetto a quanto pare sta porta cos'è? ah sarà la camera della madre? probabile questa invece è la camera dei nonni ok ok noi abbiamo piccanasato un attimo qua c'è il bagno che bella sta casa ragazzi è proprio bello sono sono anche eh eh sì ci hanno anche loro la loro età prima o poi mi sa che tocca a tutti comunque allora laviamoci la faccia visto che ci siamo appena alzati direi che è proprio il caso ancora eh ci siete riusciti figlio mio non so come eh certo bicchiere vuoto vabbè di uno dei due pannizzuzzi ok qua dentro sembrerebbe non esserci più niente per cui mi sa che non ci resta che andare di sotto continuo a dire che sta a casa mi piace un casino bellissima va bene ragazzi ci vediamo di sotto che la nonna sta preparando la colazione magari ci fanno scegliere se mangiare bacon e uova o che che altro era non lo so qua cosa c'è ah vabbè ma ci vuole ogni casa ha le sue regole eh quindi visto che siamo ospiti in casa di qualcun altro per quanto possano essere i nostri parenti ovviamente rispetteremo le regole allora qua c'è un gioco da tavola di disegni qua non c'è nient'altro con cui poter interagire eccomi qua nonna ciao nonna buongiorno anche a me ti serve aiuto ti serve aiuto ecco qua c'è un gioco 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 eccoli là sono loro raga quelli di di Ozon Adventure o Captain Spirit mi perdonerete ma non mi ricordo il nome del bambino la mia memoria mi precede direi che è il caso di lavare noi i piatti Daniel piantala ma perché ma perché no li lavo io i piatti non insistere non insistere lascia stare se ha detto che non ci si può andare 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 ok? magari tu devi dire che era Karen's room è solo una room now Sean nothing to see un po' indecisa però Daniel deve sapere non lo so cioè deve sapere che perché è chiusa a chiave la mamma mi ha contattato oddio non è che magari girando su sta conversazione poi alla nonna le girano le palle no? non lo so vabbè me ha contattato che è successo? to respect my rules under my roof ok? beh certo ma rogero of course always I appreciate that Sean now you better go find your brother there's a shed with small toys outside how fit Stephen has the key 10 year old freak thank you ok la nonna non sembra essere molto propensa a parlare di certe cose per cui mi stavo chiedendo se potevamo riparare la maniglia del cassetto a quanto pare sembrerebbe proprio di no Claire could totally be on one of those cooking shows she would be brutal e lista delle faccende domestiche yeah pretty different from the one we had back at home cosa dice aspira polvere gli asciugamani e gestare il cassetto ovviamente Claire e tutto il resto ah noi che cosa dobbiamo fare riordinare la camera mettere vestiti sporchi in lavatrice e abbracciare i nonni che teneri va bene che che succede aspetta un attimo fammi guardare un po' in giro foto di un viaggio beh magari in chiave vi sono piaciute bene incoraggiante nonna grazie all'antino della beneficenza ok coro di natale fa partire il coro di natale insomma infatti infatti sei tranquilla nonna chi sono io per giudicare la nonna allora rilassati e disegna wow lo facciamo subito magari è un bel punto di osservazione ma si non mi preoccupare non mi preoccupare sto per giudicare la tutta la tutta ok ok ho fatto dai avanti così ah ok perfetto mi devo concentrare anche sui singoli elementi evidentemente ce lo mettiamo subito sul divano la nonna anche ovviamente ma si invece che l'hai memorizzato l'abbiamo appena fatto aggiungiamo anche la nonna lì seduta a leggere già finito mancano tutti i dettagli ok ovviamente si oh sta cosa mi piace da matti ragazzi è fighissimo eccoli là che arrivano i dettagli le ombre e tutto il resto appresso tocca pure a te nonna adesso ti faccio i dettagli e tocca pure a te e gnelle e ti farò i dettagli anche a te eccolo là che figo almeno abbiamo dato un po' di insomma alito al nostro spirito artistico allora romanzi rosa sinceramente non mi interessa ammazzati boh biscotti oh poverino paura oh tranquillo era una battuta dai su ah una battutella vabbè pastelli vabbè libro sinceramente che è successo di che merda parlare del padre non so sinceramente ha proprio storie vicini noi già lo sappiamo è diventato un ubriaco non so E' ancora riconoscendo. Wow. I mean... That's sad. We tried to give him a hand. Keep an eye on his... Drinking problem. His son Chris is a little angel though. I think he could be a good influence on Daniel. This boy has spent too much time on the road. Yeah. And I'm not always the best role model. Vabbè... Voglio andare un po' fuori sinceramente. Almeno ci ha ricordato come si chiama l'altro bambino. Si chiama Chris e questo ce lo ricordiamo adesso. Non possiamo uscire comunque. Chiedi a Stephen di darti la chiave del capanno. Ok è questo il nostro attuale obiettivo. Direi che andremo subito di sopra a chiedergliela. Stephen... Dov'è? Dove diavolo sarà finito il vecchio? Dove mi zica sei? Ah sarà qua dentro. Ammazza che buio qua. Non si vede niente. Scusa ma... Ma... Oh. Cosa diavolo è? Lo stanzino tipo... La lavanderia diciamo così. Bigliettino che dice? As always with Claire. I can't really tell this is cute or bossy. Perché? Che dice? Baci tua moglie? Beh dispotica. Cioè gli sta soltanto dando delle istruzioni riguardo il bucato eh. Non è che... Che gli ha detto a pezzo di merda che Mizzica fai bla bla bla. Ah qua ci sono... Le provviste diciamo così. Ma il nonno dove Mizzica è? E' che non è da nessuna parte ragazzi. A meno che mi sono persa qualcosa. Ah e qua deve essere. Eccolo qua. Perfetto. E... Eccomi qua nonno. Certo. Subito. Sono qui apposta. Oh merda. Perfetto. Sorry. I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Oh ok. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me but... I'm a lazy old man. Hey. Can you close the door? I wanna talk for a second. Oh. Ok. It's the power cable of course. It happens all the time. Di cos'è che vorresti parlarmi? So... Listen. I've... Noticed things... With Daniel. Oddio. Che... You know what I'm talking about. Don't you? Oh merda. E che... Aspettate un attimo. Cioè potrebbe pure non stare parlando del suo potere eh. Quindi... Visto che c'è questa possibilità e non vogliamo che loro diano di matto, direi mantieni il segreto. Una cosa importante è sta scelta. Not really. What things? Eh. Non sappiamo manco di che sta parlando. C'è un tipo di forza invisibile. C'è un sacco giusto o qualcosa. Ehm... 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 Immaginavo. Per questo volevo che rimanesse il segreto. Ehm... 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 Immaginavo. Per questo volevo che rimanesse il segreto. Ehm... Ehm... Ripeto. E meno male che Danny non si doveva far scoprire e vedere. Vabbè. Io direi... Perché no? No. Oh no. Ehm... Ehm... Inicidio... No. ma non voglio che ti rendersi in problemi perché di noi è pericoloso essere sulla piazza pensi che il tuo padre chiedeva questo per i miei figli? pure è diverso ovviamente non ma tutto è diverso ora lo so, lo so beh, pensi solo ma non ti torturare se lo so ecco Claire dice che hai i chiusi per la città? oh, certo qui voi che piacere il sole sono molto tenere i ragazzi gentili ok sono così gentili disponibili e Daniel si è fatto scoprire tale e quale foto oh you found this I uh I just forgot to it's okay it's been a while since I've seen her face uh yeah I like taking a look at it from time to time doesn't it hurt yeah it does but she's still my daughter you know I can't approve what she's done but I I think I understand good I don't I'm sorry John please don't please don't say anything to Claire about this okay don't worry no no I won't I won't stai transollo va bene che dire non ci resta che andare fuori ah there you are Sean got the key hey I have to go out and run some errands can you do me a big favor do you know how to work a washing machine since I was about eight of course can you throw in yours and your brother's clothes after the next load you're in the bathroom basket totally yeah no problem thank you so much feel free to start tidying your stuff too it's good for the health to keep a house clean definitely Daniel can help ah and remember for your own safety no phone and no internet I know I know boring rules don't worry Claire vabbè ci dice certe cose e ha ragione come no che cos'è che avresti da fare ok vediamo ah dai non ho tempo da perdere e qua no come non net sarà qui cucù no no la voce sembrava comunque abbastanza lontana quindi c'è dove diavolo si sarà andato a ficcare non sarà di certo dal nonno sarà andato di sopra ehi daniel dove diavolo sei dai sarà qua dietro vediamo so che sei che paura uh ma so cagata a tosse no più scopo vero ok ok che devo fare ma come lascia perdere no 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 ma ma si deve pure responsabilizzare il ragazzino però prima o poi eh dove caspita sta scritto che devo fare tutto io e non lo so casino metti a posto casino che palla alla fine l'ho dovuto fare io ok vabbè non ci resta che non ci resta che andare a fare la lavatrice siamo degli ottimi ometti di casa da 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 e tu che vai facendo così vai in giro facendo niente dai ma posso fare la lavatrice non mi lascia fare la lavatrice ok qua ci sono i panni sporchi perfetto che sono da raccogliere ovviamente per andare a fare la lavatrice se no che cosa che cosa lavo se porto tutti i panni appresso chissà che puzza di piedi da quei calzini sporchi eccoci qua perfetto così dovrebbe andar bene è molto vago però vabbè ecco fatto esci da casa e controlla il capanno degli attrezzi perfetto l'ultimo obiettivo che ci è rimasto porta sul retro esci davvero con la con la maglietta maniche corte imbacuccatevi che tu modeste riprende perfetto ragazzi allora mi ha appena salvato la partita oggi è stato un episodio alquanto tranquillo però abbastanza significativo nel senso che siamo riusciti a trovare la compagnia dei nostri nonni che ci hanno accolto cosa che da un lato non mi aspettavo molto perché sapete magari di solito sono sempre un po scettica quindi ci sono rimasta veramente molto stupita ci sarà qualche collegamento sicuramente col piccolo chris in quanto ci ricordiamo che avevano anche importato i salvataggi di di osam adventure o captain spirit e sono curiosa rivedere cosa succederà questo video termina qui grazie a tutti un bacione e abdoscio a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao